oggi vi propongo una ricetta che è un mix un po fusion andiamo a fare un bao quindi classico panino cinese fatto con farina normale farina di riso e acqua lievitato poi il cotto a vapore e poi c'è un ricordo di un vitello tonnato se andiamo a cuocere un magatello arrostito in maniera molto semplice vi faccio anche vedere del tonno della maionese il tutto avrà una parte vegetale che sono delle zucchine marinate in aceto e menta una punta d'aglio la prima cosa che vado a fare è cucinare e preparare la carne quindi padella andiamo a fare una ricottura in padella e poi andiamo a finirlo in forno quindi vado a salare e preparare vado in padella con dell'olio extravergine padella molto calda dito d'aglio formarino e vado a rosolare la carne su tutti i lati una volta dorata spengo il fuoco la metto sulla placca da forno e vado in forno a 220 radi per circa un quarto d'ora dentro ovviamente essere rosa quando parliamo di vitello poi nella stessa padella calda dove abbiam cotto la carne vado ad aggiungere il tonno sott'olio questa la lascio semplicemente con il calore indiretto praticamente vado a prendere tutti i sapori e profumi ora preparo le zucchine ne ricavo con quella patate che fa praticamente degli spaghetti soltanto la parte verde prendo una bulla aggiungo le zucchine vado a condire il tutto con la menta tritata sale aggiungo il peperoncino faccio marinare con dell'aglio se vi piace potete tritarlo oppure lasciarlo in camicia intero e dell'aceto di mele aggiungo dell'olio a questo punto le zucchine ne faccio marinare una mezz'oretta nel frattempo attendo la cottura del maratello poi devo semplicemente scalopparlo e poi c'è un po' di infiattamento inizio a condire il tonno con un po' di maionese aggiungo un po' di maionese sulla base ora metto un po' di tonno aggiungo il maratello arrosto e infine le zucchine marinate e prendo il cannello per dargli una nota un po' fumicata vado a bruciare la parte superiore ed è qui un'idea saporita veloce provateci alla prossima buon appetito